Sabato prossimo alla Pace una serata di solidarietà per l'acquisto di un defibrillatore. Sì, è un'iniziativa dell'associazione Il Dedalo che il presidente è qui accanto a me. Io presiedo invece il Comitato Acqua Pubblica che comunque ha aderito a questa iniziativa in quanto il centro polivalente della Pace necessita di un'attrezzatura di questo genere che serve a salvare le vite delle persone in una località che secondo me è in una zona della città un po' a est della città che è molto staccata dal centro, da dove ci sono di questo tipo di apparecchiature disponibili. Naturalmente come Comitato Acqua Pubblica abbiamo aderito a questa iniziativa e la sosteniamo e siamo parte degli attivisti che faranno sì che questa scena a spettacolo riesca. e quindi chiedo volentieri di partecipare e di farsi vivi per le prenotazioni. Ancora sono aperte, abbiamo dei posti e ci farebbe piacere che altri cittadini intervengano per dare una mano a questa che è una finalità e uno scopo sociale di primo piano. Ci sarà il DJ collaboratore di Vasco Rossi, Leo Persuada. Sì, sarà presente Leo Persuada che praticamente sarà il mattatore della serata e quindi ci aiuterà con le sue performance, ci aiuterà alla raccolta dei fondi per questo defibrillatore. Perché è una zona che ne ha bisogno. Sì, allora Arezzo è ben coperta, Arezzo città però, è ben coperta come quantità di defibrillatori, insomma ce ne sono parecchi, però la zona della pace è un po' isolata, come diceva prima Gianfranco e quindi abbiamo pensato che sarebbe il caso di metterne qualcuno anche da quelle parti. Come si prenota? Si può prenotare telefonando ai numeri che poi vediamo, 368-3765-785-39304-12875 o associazione il Dede all'occhioccio la gmail.com Perfetto, quelle sono le indicazioni. Comunque sia, se qualcuno non potesse venire per la cena, dopo l'orario della cena può entrare comunque per 10 euro e durante la serata verranno estratti due biglietti del prossimo concerto di Vasco Rossi e poi due voucher della palestra Space che è uno dei nostri tanti sponsor che vogliamo ringraziare perché grazie a loro abbiamo anche potuto fare questa serata. Appuntamento sabato al centro polivalente La Pace alle 20.